Le creppe alla nutella mettono sempre tutti d'accordo, d'altronde come si fa a resistere. Vediamo insieme come prepararle. In una ciotola lavora le uova e il latte e lo zucchero. Aggiungi la farina setacciata un po' per volta mescolando con una frusta. Per finire aggiungi l'olio e mescola. Filtra il composto per evitare grumi e metti in frigo per un'oretta. Scalda una padella e ungila con un po' di burro. Versa il composto e livellalo per bene. Cuoci per 2-3 minuti, gira delicatamente e cuoci un altro minuto dall'altro lato. Continua fino a terminare la pastella ungendo la padella ogni volta che serve. Con queste dosi vengono fuori circa 15 crepes. Spalma la nutella, chiudi e se vuoi aggiungere ancora un altro po'. Chiudi nuovamente e decora con lo zucchero a velo. A questo punto non ti resta che servire le tue crepes. Salva la ricetta per averla sempre a portata di mano. Grazie. 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 Grazie.